Sistemami la maglietta? Vado. Ciao, sono Leonor Rodriguez, lavoro per amico dentista di Carondo Pertusela. Faccio l'assistente alla poltrona. Nel mio tempo libero sono una mamma, la mamma di Daniele Ginevra. Tutte le mattine le porto a scuola, sempre di fretta. Arrivo qua, quei cinque minuti che mi ricavo per fare la colazione. Così ho più sprint per la giornata di lavoro. Eh sì, faccio anche la mamma, che cacchio.